In una recente puntata di Dritto e Rovescio, su Rete4, condotta da Paolo Del Debbio, si è assistito a un episodio che ha scatenato ampie discussioni. Un giovane, definito Maranza, ha interrotto la trasmissione con insulti, volgarità e minacce di vendetta, portando alla sua espulsione dallo studio. Questi giovani, spesso figli di immigrati nordafricani, sono al centro di un fenomeno di microcriminalità e violenza giovanile che sta preoccupando l'Italia, specialmente a Milano. Il termine Maranza si riferisce a gruppi di giovani che si muovono in comitive, spesso di periferia, con atteggiamenti provocatori e talvolta delinquenti. Questi gruppi, nati e diffusi attraverso i social media come TikTok, sono noti per le loro estorsioni, minacce e aggressioni, diventando un fenomeno sociale problematico in diverse città italiane. L'incidente in trasmissione ha sollevato questioni importanti sull'integrazione, la sicurezza pubblica e il ruolo dei media nel gestire situazioni potenzialmente volatili. La reazione di Del Debbio, che ha espulso il giovane dallo studio, è stata vista da alcuni come un atto di fermezza necessario di fronte alla mancanza di rispetto e alle minacce aperte. Altri hanno criticato l'approccio, suggerendo che potrebbe alimentare ulteriormente le tensioni. Il vicepremier Matteo Salvini ha espresso il suo sostegno all'azione di Del Debbio, evidenziando l'importanza della tolleranza zero contro le baby gang e la necessità di rispettare le regole per una convivenza civile. Questo episodio mette in luce la complessa sfida che la società italiana sta affrontando nel gestire il fenomeno Dei Maranza, simbolo di una gioventù alla deriva, tra bisogni di integrazione, rabbia repressa e la ricerca di un'identità in un mondo che spesso sembra escluderli. Cosa pensi, Dei Maranza? Come gestiresti questa situazione? Scrivilo nei commenti sotto al video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime notizie.